Ma Peppino, ma che ti fai? Si Papi, sto impiattando Che ti stai a fare? Sto mettendo la pasta nei piatti Ah, la pasta nei piatti Arrivo Si, ma che è tardi pure Ecco Finalmente un bel piatto spaghettino Buon appetito Buon appetito Ah Papi Ti volevo dire Che il mio ragazzo Mi ha detto che ho una meravigliosa carrozzeria Due splendidi air bag E un bellissimo cofano Si Sì Allora devi dire al ragazzo tuo Se poco a poco ci permette Di alzare il cofano tuo Io spesso la mamma Si capite? Ok Papi Tu mangi già? Io lo dirò Grazie E il bag Barbelli Due cofano Le chiave Eccoci già Uuuuh 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 Uuuuh